cari amiche e cari amici una nostra amica del decimo d'oro intervista che già conoscete una playlist tutta sua anietta da docente di studi islamici docente di geopolitica abbiamo già trattato il tema di maria e la donna nell'islam e adesso ci occuperemo un po di biologia antropologia e scatologia islamica e iniziamo da la prima curiosità e la prima il primo oggetto di riflessione e conversazione allora vi dicevo questo è un primo di una serie di video nuovi ora il tema di maria lo abbiamo esaurito e in particolare in questo video cominceremo a occuparci di teologia e scatologia islamica tratteremo alcune nozioni di ideologia e abbiamo già visto la cultura islamica è molto variegata molto complessa quindi non si può ridurre a un un unico modo di vedere e c'è un vocabolo arabo calam e ha a che vedere con la scienza adesso ania ci carirà del significato del questo vocabolo calam e poi volevo chiederle anche anni e quali sono i pilastri della religione spesso si sente parlare di pilastri dell'islam prego vuole salutare i nostri amici come se se innanzitutto buongiorno a tutti sì allora la scienza che si occupa dello studio dei principi del credo viene chiamata calam che normalmente viene tradotto come teologia anche se diciamo che questo termine non sarebbe il più adatto in quanto il calam da certi punti di vista è una scienza più ampia rispetto alla teologia poi magari parlandone vedremo anche il perché e quindi il calam viene definito come la scienza che spiega i principi del credo li dimostra e risponde a eventuali critiche e dubbi riguardo a a questi a questi principi e i principi dottrinali del credo islamico sono appunto chiamati pilastri della religione però ecco prima di definire i pilastri della religione secondo me sarebbe il caso di capire bene cosa intendiamo per religione soprattutto in questo in questa sede nella sede della della teologia islamica la parola araba din che appunto viene tradotta in italiano con religione letteralmente significa obbedienza e ricompensa tuttavia il suo significato non possiamo dire tecnico quindi nella terminologia delle delle scienze islamiche è credere in un creatore dell'universo e enorme pratiche che sono conformi a questo credo questo è molto importante poi spiegherò anche il perché quindi coloro che per esempio non credono che esista un creatore e che per esempio l'universo si è venuto a formarsi in seguito a un processo di reazioni fra elementi o teorie simili non vengono considerati seguaci di una religione con questa definizione invece coloro che credono nell'esistenza di un creatore anche se magari hanno principi dottrinali che sono stati alterati o riti di adorazione che si sono mescolati con superstizioni perché appunto comunque credono nel fatto che ci sia stato un creatore che abbia creato l'universo vengono considerati seguaci di una religione ed è in base a questa definizione che vengono suddivise le religioni in vere e false e la teologia islamica afferma che la vera religione presenta dei principi dottrinali corretti che siano corrispondenti alla realtà e inoltre propone e favorisce norme di comportamento che si percepiscono essere valide e corrette ecco in base a questa definizione di religione il kalam quindi la teologia islamica afferma che ogni religione può essere suddivisa in due parti secondo questa definizione di religione una parte sono i principi dottrinali del credo che sono le basi e le radici di qualsiasi religione e poi la parte delle delle norme pratiche che come abbiamo detto queste norme pratiche devono essere conformi ai principi del credo ed è per questo che i primi vengono appunto chiamati pilastri quindi i principi dottrinali vengono chiamati pilastri e invece le norme pratiche vengono chiamate rami della religione e questi due termini ovviamente poi vengono in particolare utilizzati per il ovviamente per il principio per i principi del credo islamico e per le norme pratiche che si riferiscono in specifico a quelle islamiche ecco scusi perché mi interessava proprio il discorso dei pilastri perché leggendo vari saggi sull'islam mi sono spesso imbattuto in questo dei pilastri quali sono questi pilastri cioè i principi dottina dottrinali della religione islamica sì allora per ecco per capire bene quali sono questi pilastri facciamo un passo indietro nel senso che gli storici delle religioni gli antropologhi gli sociologi hanno espresso varie teorie riguardo a come proprio siano nate le religioni e il credo religioso però da un punto di vista islamico la religione si è manifestata con la creazione del primo uomo quindi Adamo che nella concezione islamica è anche un profeta che invitò al credo nel dio unico all'adorazione del dio unico e e invece nella visione islamica le altre religioni politeiste che poi sono venute insomma si sono manifestate sono il risultato di alterazioni e deviazioni promulgate da individui o gruppi per favorire quelli che erano in realtà i loro interessi e piaceri quindi adattare la religione a quelle che erano i loro i loro interessi e le religioni monoteistiche che spesso utilizzerò anche l'aggettivo celesti per definirle condividono secondo la teologia islamica tre pilastri il credo in un unico dio il credo in una vita ultraterrena e eterna nonché in una ricompensa e ovviamente una punizione che sono determinate da quelle che sono le azioni che l'essere umano ha compiuto in questo mondo e il credo in individui come i profeti le guide che vengono investiti da dio per guidare l'umanità verso la perfezione e la beatitudine terrena e ultraterrena quindi la teologia islamica spiega in questo modo i pilastri tre dei pilastri della religione e li considera pilastri che in realtà sono condivisi anche dalle altre religioni anche se magari le altre religioni monoteistiche non diciamo non condividono la stessa definizione di pilastri e anche perché questi pilastri alla fine sono la risposta alle alle tre domande che ogni essere umano capace di di intendere si pone come è iniziato tutto ciò che esiste qual è il fine ultimo di tutto ciò che esiste e come si può conoscere la migliore linea di condotta da seguire per vivere e quest'ultima in particolare quest'ultima domanda può essere possiamo trovare una risposta a quest'ultima domanda attraverso la rivelazione che che alla fine da forma a quella che è l'ideologia religiosa se vogliamo chiamarla in questo modo e questa ideologia religiosa si basa ovviamente su una visione metafisica dell'universo ecco questi principi questi tre pilastri che abbiamo citato quindi il credo in dio il credo in una vita altraterrena e il credo nelle guide nei profeti divini sono principi fondamentali che portano a ulteriori dettagli a conseguenze che nel complesso cosa succede formano il sistema dei principi del credo di una religione e come abbiamo detto questi nella visione teologica islamica questi principi questi tre principi sono condivisi anche dalle altre religioni però ecco poi tra le varie religioni e le denominazioni che ci sono all'interno di una stessa religione possono esistere cioè ovviamente esistono delle differenze in alcuni se vogliamo chiamarli così dettagli che ovviamente non sono dettagli minimi sono dettagli importanti come abbiamo sempre ribadito noi non neghiamo le differenze non vogliamo creare nessun tipo di strano sincretismo però appunto queste queste differenze ci sono come invece ci sono come abbiamo detto degli aspetti in comune pertanto per esempio cristiani ha una visione trinitaria di dio è una visione che differisce ovviamente da quella ebraica o islamica e oppure se vogliamo parlare delle differenze all'interno di una stessa religione per esempio tra sonniti e sciiti all'interno dell'islam ci sono differenze su su come debba essere stabilito il successore del del profeta però ecco nel nel calam nella teologia islamica si afferma che in ogni caso l'unicità di dio la profezia quindi il credo in cui le divine e il credo nell'aldilà sono pilastri di tutte le religioni celesti e poi invece ci sono alcuni pilastri subordinati a quelli principali che per esempio nel caso dell'islam sciita gli altri due pilastri vengono considerati la giustizia divina che può essere diciamo così è subordinato alla fine al credo in dio quindi fa comunque parte di questo principio quindi viene considerato un principio un pilastro subordinato a quello principale e poi c'è il pilastro dell'imamato anche questo può essere annoverato al principio del credo nella profezia e quindi questo per quanto riguarda l'islam sciita alla fine nell'islam sciita abbiamo cinque pilastri il primo è il credo in dio il credo nella giustizia divina il credo nella profezia il credo nell'imamato e il credo nell'aldilà mentre invece i sonniti hanno una visione in realtà diversa di quelli che sono i pilastri della religione anche se comunque ovviamente condividono il credo in un unico dio il credo nella profezia nell'aldilà nel e poi ovviamente in tutti gli altri aspetti comuni che hanno con lo sciismo ecco le eterne domande dell'uomo chi siamo da dove veniamo dove andiamo sono alla base un po di della filosofia anche è un po di tutte le le religioni marx nell'ottocento vide la religione come l'oppio dei popoli nacquero delle correnti estreme di sociologia di antropologia alcuni profetizzarono perfino che il novecento sarebbe stata la fine delle religioni e quindi le religioni sarebbero state totalmente soppiantate dalla scienza e come vediamo così non è stato c'è un po crisi della religione ma da che mondo il mondo l'uomo ha sempre sentito questo anelico verso l'alto allora sarebbe interessante secondo lei ecco perché c'è questa necessità dell'uomo di seguire una religione perché è importante questo tipo di ricerca prego allora l'essere umano ha una tendenza intrinseca a conoscere le realtà che ci che lo circondano tutto quello che si trova intorno a lui cioè questa è una cosa naturale chiaramente è anche visibile fin fin dall'infanzia e prosegue fino alla vecchiaia questo stimolo a conoscere le realtà che lo circondano a ricercare la la verità che poi alla fine potrebbe essere considerata curiosità alla fine porta l'essere umano a porsi domande riguardo ai temi trattati dalla religione e per questo ad andare alla ricerca della religione vera per esempio si pone una serie di domande ovviamente quando ha raggiunto determinate conoscenze per cui esiste un creatore quindi io da dove provengo come come sono come gli esseri umani si sono sono stati creati in questo mondo come è incominciato tutto la vite la vita dell'essere umano è limitata solo a questa vita materiale o ci sarà una vita anche dopo la morte se esiste una vita dopo la morte esiste un legame tra questa vita e l'aldilà se esiste un legame di che tipo di legame si tratta quali fattori influenzano la vita terrena come possiamo conoscere quella linea di condotta quella prassi corretta che possa permetterci di gestire la nostra vita in modo da garantirci la felicità sia in questo mondo che la abbia attitudine nell'altro perché comunque è ovvio che l'essere umano ha un particolare amore per se stesso non stiamo ovviamente parlando di quell'amore egoistico e narcisistico ma quell'amore che lo porta comunque salvaguardare la sua vita e ricercare il meglio per sé quindi comunque l'essere umano alla fine vuole la felicità in questo mondo ma se esiste anche una vita ultraterrena quale può essere quella linea di condotta quella prassi che può permetterci di ottenere un minimo di felicità in questa in questa vita e anche allo stesso tempo la beatitudine e la perfezione nell'altra per cui questo stimolo a ricercare la verità è il primo fattore che spinge l'essere umano a conoscere il mondo intorno a sé e in particolare a porsi domande riguardo a quelle che abbiamo definito questioni religiose e a ricercare la religione vera ovvero quella religione che può aiutarlo a raggiungere questo scopo sia una vita felice in questo mondo ma anche la beatitudine e la perfezione nell'altro. Un altro fattore che rafforza lo stimolo dell'essere umano a conoscere le realtà che lo circondano risiede nella necessità di soddisfare i suoi bisogni anche quelli materiali ovviamente se ricordate in una delle precedenti sessioni avevo detto che l'islam non nega i piaceri della vita solo che questi piaceri ovviamente devono essere regolati quindi se la religione può favorire una conoscenza corretta di cui di ciò di cui l'essere umano può usufruire di ciò che è di suo interesse e informarlo di quello che può eventualmente nuocerli anche questo fattore lo spingerà a studiare la religione e approfondire le questioni religiose. È possibile che l'essere umano sia più propenso a studiare e cercare di risolvere le questioni più semplici e chiare piuttosto di dedicarsi a quelle che potrebbero sembrare complicate questioni della religione e il cui risultato molto spesso non può essere dimostrato in modo empirico. Purtroppo da questo punto di vista bisogna farsi anche un'autocritica nel senso che molto spesso noi individui religiosi rendiamo la religione una cosa molto complicata quando in realtà in questo modo si allontanano le persone e invece invitando le persone alla fede e al credo in modo più semplice questo potrebbe aiutarle di più all'approccio alla religione. In ogni caso proprio per questa tendenza a cercare di risolvere questioni più semplici più tangibili è fondamentale dimostrare l'importanza delle questioni e degli argomenti trattati dalla religione. Anzi quello che cercherò di dimostrare è che nessun'altra questione è più degna di essere analizzata e ricercata delle questioni religiose. Vogliamo ricordare che molti psicologi e psichiatri sostengono che l'istinto di adorare una divinità sia un istinto a sé la cui radice viene chiamata senso religioso e viene considerata una delle dimensioni dello spirito umano. Infatti è dimostrato che questo istinto è sempre stato presente tra gli esseri umani. Ecco però questo non significa che questo istinto sia sempre vivo o sveglio se vogliamo dire così e soprattutto che l'essere umano ne sia consapevole. Al contrario potrebbero esserci fattori ambientali o educativi che non permettono a questo senso religioso, a questa tendenza intrinseca dell'essere umano all'alto, a Dio, di rendersi manifesto e quindi questo senso religioso rimane celato e inattivo oppure guida nella direzione sbagliata come d'altronde avviene anche con gli altri istinti. In base a questa teoria quindi esistono uno stimolo e un istinto indipendenti che spingono l'individuo a fare delle ricerche in ambito religioso. Non è quindi necessario dimostrare per altre vie che l'essere umano è intrinsecamente portato a ciò, lo vediamo, lo vediamo semplicemente, anche se poi magari questo senso religioso porta l'essere umano a adorare cose tipo il denaro o cose di questo genere, però in realtà questo senso di arrivare a quella che è la fonte dell'infinita potenza, dell'infinita conoscenza che per una persona credente ovviamente è Dio, qualcun altro potrebbe essere portato ad altre mete. Ecco, questa teoria, cioè appunto il fatto che ci sia questo senso religioso nell'essere umano è confermata anche dai versetti, dalle tradizioni islamiche che attestano come la religione sia un elemento intrinseco nell'essere umano, però appunto potrebbe rimanere celato o inattivo e o addirittura alcuni potrebbero negarlo in se stessi. Quindi da una parte c'è questo istinto naturale a conoscere le realtà che ci circondano e dall'altra la necessità di soddisfare i nostri interessi e a evitare quello che potrebbe danneggiarci. Quindi questo ci porta a riflettere e a cercare di conoscere la realtà. Quindi quando veniamo a sapere che nell'arco della storia dell'umanità ci sono stati individui che hanno dichiarato di essere stati inviati dal creatore dell'universo per guidare l'umanità verso la felicità in questo mondo e nell'altro e nel comunicare questo messaggio peraltro hanno compiuto anche molti sforzi, hanno sopportato ogni tipo di difficoltà mettendo molto spesso a rischio la propria vita. Ovviamente stiamo parlando dei profeti, dei messaggeri divini. Quindi un individuo quando viene a sapere di queste persone, stimolato anche dai vari fattori e elementi che abbiamo citato, sarà portato a fare cosa? A svolgere più ricerche riguardo a queste personalità, questi personaggi e soprattutto riguardo alla religione che hanno portato e a cercare di capire se quello che affermano è supportato da sufficienti prove oppure no. Quindi quando si viene a conoscenza del fatto che il loro messaggio, il messaggio di questi profeti porta la lieta novella di una vita eterna nella nella beatitudine o l'ammunizione della dannazione, in altre parole questo invito dei profeti potrebbe portare a un possibile accettare questo invito dei profeti, potrebbe portare a un possibile vantaggio infinito che è appunto la beatitudine eterna e rifiutarlo invece potrebbe portare a un danno senza fine. Quindi una persona quando riflette su queste cose pensa almeno vale la pena pensarci un attimo su e cercare di capire se ci sono delle prove che dimostrano il messaggio che hanno portato questi inviati di Dio. Purtroppo ci troviamo in un'epoca in cui gli individui sono alla ricerca della comunità e di una vita che non richieda troppi impegni e sforzi e molte persone sono purtroppo riluttanti a seguire una religione anche per i limiti che molto spesso una religione impone e quindi succede che molte persone non si preoccupano di approfondire le questioni religiose. Però ecco, allo stesso tempo devono anche rendersi conto che le conseguenze di quelle che potrebbero essere le conseguenze di una scelta di questo tipo come un bambino che per paura di dover prendere una medicina non accetta di essere accompagnato dal medico. Con la differenza che un bambino non ha ancora raggiunto una maturità sufficiente per capire le conseguenze del suo gesto, mentre un uomo adulto è in grado di capire la differenza tra il godimento effimero di certi capricci terreni e invece il seguire una religione, è una via religiosa che lo possa portare alla beatitudine eterna oppure dall'altra parte alla dannazione eterna. Scusi, voglio dire che il Novecento è stato il secolo, si apre proprio con l'annuncio della morte di Dio da parte di Nietzsche, anche se Nietzsche si riferiva a dei valori che potessero unire una comunità. Però effettivamente c'è stata una spinta verso il materialismo e verso anche uno scientismo esasperato. Tutta questa storiaccia dell'influenza globale ha però risvegliato anche degli anni, quindi da una parte c'era questo declino incredibile rispetto alla religione, eppure questo disastro che sta accadendo può avere dei risvolti positivi. Anche se resta questo atteggiamento legato al materialismo che vede un po' la religione con aria di sufficienza, dice ma abbiamo tanti cose, tanti problemi di cui occuparci, anche dal punto di vista quotidiano, dal punto di vista pratico, non è meglio indirizzare le nostre energie verso queste cose pratiche e non verso la religione? Lei che pensa di questo tipo di ragionamenti? Sì, purtroppo molte persone appunto sostengono che in realtà, proprio perché certe questioni religiose non sono tangibili, no? Pensiamo al credo in Dio, molto spesso viene considerato qualcosa che non può essere dimostrato e quindi appunto, e anche per l'influenza comunque di una certa mentalità che purtroppo, come ha sottolineato lei, è stato portato purtroppo soprattutto in questo particolare periodo storico al suo apice, no? Questa quasi idolatria della scienza, se vogliamo definirla in questo modo, tanto per citare una delle questioni. e quindi molti potrebbero sostenere che è più semplice, è più importante occuparsi prima di tutto di risolvere questioni, diciamo così, di tipo materiale, di tipo empirico. Ecco, in realtà è che non c'è speranza di poter risolvere le questioni religiose, anche perché poi spesso il ragionamento che si fa purtroppo è anche quello di associare tutte le guerre, tutti i problemi ai conflitti di religione, quando invece, quando una persona va ad approfondire, scopre che in realtà dietro non c'erano questioni religiose, ma c'erano ben altri interessi. Quindi si può in realtà risolvere questo astio nei confronti della religione spiegando bene e soprattutto nel modo più semplice e razionale possibile, perché è appunto necessario continuare a ricercare la verità e cercare una via, una direzione religiosa che possa aiutarci ad avere una vita felice e equilibrata in questo mondo e una vita felice anche nell'altro. Ecco, quindi a chi afferma che le questioni empiriche sono più semplici, le questioni materiali empiriche sono più semplici da risolvere, di quale religiosa, possiamo dire che prima di tutto anche molte questioni materiali e empiriche hanno richiesto decine di anni di esperimenti e studi per poter essere risolte per questo, quindi non vuol dire che siano meno complesse dei temi religiosi, anche perché per tante questioni religiosi in realtà ci sono delle risposte, non è che non ci siano come poi vedremo nelle sessioni successive quando dimostreremo per esempio l'esistenza di Dio eccetera. E quando parliamo di probabilità di risolvere le questioni religiose dobbiamo prendere in considerazione anche quello che c'è in gioco, perché voi faccio un esempio, se in una transazione di tipo economico c'è il 5% di probabilità di avere successo e un guadagno di un milione di euro e invece in un'altra transazione il 10% di probabilità di successo ma un guadagno di 100 mila euro, è ovvio che siamo più spinti a tentare la prima transazione anche se la probabilità di successo è minore, ma il guadagno è 10 volte maggiore del secondo tipo di transazione, quindi per quanto riguarda la religione il guadagno è infinito e per piccola che possa essere la probabilità di successo come alcuni sostengono vale comunque la pena di indagare i temi religiosi, a meno che l'essere umano non arrivi alla conclusione certa e sicura che la religione sia dannosa e i suoi temi irriservibili, ma chi mai può avere una certezza di questo tipo, arrivare con certezza a una conclusione di questo tipo, anche perché alla fine la religione non è che chieda neanche tanti sforzi, è vero pone una serie di limiti, però alla fine rende comunque la vita più equilibrata e quindi con questa semplice spiegazione il Calam dimostra la necessità di analizzare i temi religiosi e di trovare la religione vera, quindi di continuare ad essere alla ricerca della verità e questa spiegazione è basata sul bisogno dell'essere umano di conoscere ciò che gli porta benefici e ciò che lo danneggia, istinto che ogni essere umano ovviamente possiede per natura e adesso spiegherò questo stesso concetto con delle premesse più precise e la conclusione di questa argomentazione, di questo ragionamento sarà che l'essere umano sarà che se l'essere umano non si impegna a conoscere la visione dell'universo e l'ideologia corrette non potrà raggiungere la perfezione e la sua realizzazione spirituale, mentre invece se si impegna a farlo ha una buona possibilità di poter raggiungere questa realizzazione e questa argomentazione tra l'altro qui apro una parentesi, la teologia islamica in particolare la teologia islamica sciita ha un approccio razionale ai temi, poi questo lo spiegherò anche fra un po' e quindi molto spesso noterete che cercherò di dimostrare quello che affermo per via razionale, quindi questa argomentazione si fonda su tre premesse, la prima è che l'essere umano è una creatura alla ricerca della perfezione e questo chiunque può notarlo in se stesso, la seconda premessa è che la perfezione può essere raggiunta attraverso le azioni volontarie ed è l'intelletto che stabilisce quali azioni compiere e la terza permessa è che su quali basi e norme l'intelletto decida di compiere determinate azioni volontarie da cosa dipende? Dipende dalla sua conoscenza e la sua visione di quelle tre questioni principali che abbiamo detto costituiscono i tre principi della religione, quindi da dove proviene, ossia la conoscenza di Dio, dove va la conoscenza dell'aldilà e quale guida seguire nella sua vita, quindi conoscenza delle guide divine della profezia come viene definito in teologia islamica. Quindi perché diciamo la prima premessa? Perché diciamo che l'essere umano è alla ricerca della perfezione? Questo è un aspetto intrinseco dell'essere umano, ognuno di noi osservando se stesso e il proprio comportamento vedrà questa tendenza che lo porta continuamente a migliorarsi, a nascondere o correggere i propri difetti, quindi la ricerca della perfezione se indirizzata verso la sua meta corretta e naturale permette all'individuo di edificare se stesso. Se invece è indirizzata verso un sentiero sbagliato potrebbe portare a bigottismo, ecocentrismo, narcisismo e altri ismi simili. Quindi la ricerca della perfezione è un fattore intrinseco molto forte e con un po' di attenzione l'individuo comprenderà che praticamente tutto quello che svolge è finalizzato a raggiungere questa perfezione, a migliorarsi. La seconda premessa abbiamo detto la perfezione si raggiunge secondo l'intelletto per cui sappiamo che l'essere umano grazie alla sua capacità intellettuale può allargare le proprie conoscenze e in base a queste conoscenze l'intelletto sceglie quali azioni volontarie compiere. Quindi nel momento in cui per esempio so che un cibo, un frutto per esempio mi fa male, io ovviamente evito di mangiare quel frutto. Inoltre le necessità dell'essere umano non si limitano solo ai bisogni di tipo terreno e fisico, ma comprendono anche quelli spirituali. Quindi è necessario avere anche una fonte che possa guidarci nella conoscenza delle nostre necessità spirituali. E per quanto riguarda la terza premessa, il fatto che ovviamente, come abbiamo detto, le decisioni dell'intelletto scaturiscono dalle conoscenze, perché l'intelletto può valutare le azioni volontarie da compiere e stabilire quali lo avvicinano alla perfezione solo nel momento in cui conosce le varie dimensioni della perfezione umana, gli aspetti della realtà dell'essere umano e in altre parole deve conoscere tutte le dimensioni esistenziali dell'individuo e anche lo scopo della sua creazione. E queste questioni sono ovviamente direttamente legate ai tre principi della religione che abbiamo appena spiegato. Infatti l'individuo deve sapere qual è la sua meta e come raggiungerla, altrimenti l'intelletto non sarà in grado di indirizzarlo verso quel sentiero e decidere quali sono le azioni che lo conducono alla perfezione. Pertanto possiamo concludere questa argomentazione affermando che l'essere umano è intrinsecamente portato a cercare la perfezione, migliorare se stesso e questa perfezione può essere raggiunta solo compiendo azioni volontarie che sono conformi e che gli permettono il raggiungimento di questa perfezione. Ecco, per sapere quali azioni sono conformi e lo avvicinano alla perfezione deve prima di tutto sapere in che cosa consiste questa perfezione e per conoscerla deve conoscere le varie dimensioni della sua esistenza, il legame fra le sue azioni e il raggiungimento della perfezione deve conoscere quindi le tematiche trattate nei principi della religione ed è quindi necessario che l'essere umano sia alla ricerca di conoscenze corrette riguardo a questi temi, quindi sia alla continua ricerca della verità. Colui che non è alla ricerca di queste conoscenze corrette oppure, peggio ancora, dopo averne attestata la veridicità, le rifiuta per poter godere di piaceri effimeri, spreca in realtà quelle che sono le sue potenzialità che gli avrebbero permesso di vivere in modo felice e equilibrato in questa vita e di raggiungere soprattutto la sua realizzazione esistenziale nell'altro mondo. Scusi, ma vorrei riprendere un attimo quello che dicevo prima che è un po' all'origine di tutte le filosofie e in fondo anche di tutte le religioni che sono i grandi interrogativi degli esseri umani. Da dove veniamo? Cosa ci facciamo qui su questa terra? Dove andiamo? Le domande esistenziali che oltretutto sono tipiche solo degli esseri umani, perché gli animali non possono porsi questi interrogativi. E questo ha conferma che è bene porseli questi interrogativi se non si vuole arrivare a fare una vita istintiva e animale. Ecco, secondo lei come poter dare risposta a queste domande? Lo so che è un domandone impegnativo, però nella cultura islamica c'è modo di rispondere a queste domande? Prego. Sì, che alla fine è lo scopo anche in qualche modo della teologia islamica, quindi abbiamo detto del Calam, quello di rispondere a queste domande. Per cui ovviamente a un certo punto l'individuo si domanda come poter risolvere queste questioni religiose, da dove proviene, qual è la sua meta e come raggiungerla, quale tipo di conoscenza gli fornirà delle risposte. Per rispondere a questa domande dobbiamo fare anche qui un ragionamento di tipo razionale in realtà, per cui le conoscenze possono essere categorizzate in vari modi, a seconda ovviamente del criterio di categorizzazione. Per esempio un tipo di soddivisione delle conoscenze può essere la seguente, quindi possiamo suddividere le conoscenze in quattro categorie, le conoscenze di tipo empirico, che sono quelle conoscenze che si ottengono attraverso i sensi, dove la mente ha il ruolo di analizzare e elaborare i dati che provengono dai cinque sensi. Ed è il tipo di conoscenze utilizzata in scienze come per esempio la fisica, la chimica e la biologia. La seconda categoria sono le conoscenze mentali, che sono quelle conoscenze che si ottengono attraverso l'elaborazione di quei dati che appunto i sensi hanno ottenuto. Questa elaborazione ovviamente viene svolta dalla mente e si ottengono dei concetti astratti, quindi è il tipo di conoscenza utilizzata in logica, in filosofia, in matematica. Abbiamo la terza categoria che sono le conoscenze di tipo pedissecco, per cui è la conoscenza che si ottiene da un'autorità attraverso una fonte veritiera ed è il tipo di conoscenza che offrono le guide religiose. Per cui per esempio noi nella tradizione islamica affermiamo che per esempio c'è questo hadis, c'è questa tradizione del profeta che afferma che il profeta disse eccetera eccetera. E poi c'è il quarto tipo di conoscenza che è la conoscenza presenziale, che peraltro è il, dovremmo definire in qualche modo il più elevato tipo di conoscenza, perché è la conoscenza diretta dell'oggetto di conoscenza. Perché al contrario degli altri tipi di conoscenza, la conoscenza di tipo presenziale non si ottiene attraverso dei concetti e pensate per esempio alla percezione che noi abbiamo di noi stessi. La percezione che abbiamo di noi stessi è una percezione di tipo diretto. Sì è vero, io posso descrivere me stessa attraverso dei concetti, però la percezione stessa che ho di me è una conoscenza di tipo presenziale, perché appunto è una percezione diretta. E questo tipo di conoscenza, proprio perché è diretta, è immune da errore. Tuttavia diciamo che nell'agnosi islamica che viene chiamata Irfan, dove molto spesso ci si vanta di possedere questo tipo di conoscenza presenziale di Dio, quindi una conoscenza di tipo diretta, cosa succede? Succede che nel momento in cui si vogliono descrivere i concetti dell'irfan, quindi dell'agnosi islamica, bisogna farlo ovviamente attraverso dei concetti, delle spiegazioni e quindi si attua una esegesi mentale di quelle che sarebbero percezioni presenziali e esperienze dirette della divinità, che però essendo appunto delle interpretazioni possono rivelarsi imprecise o sbagliate. Quindi è molto importante capire la differenza tra l'affermare che una conoscenza di tipo presenziale, ossia una percezione diretta della divinità, che possono essere appunto le esperienze di tipo mistico, possono essere esperienze vere, possono essere esperienze genuine, tuttavia nel momento in cui vengono spiegate e interpretate potrebbero appunto, si potrebbe cadere in errore e possono essere capite o interpretate in modo sbagliato. Quindi abbiamo detto ci sono quattro tipi di conoscenza, la conoscenza empirica, quella mentale, quella pedissequa e quella presenziale e ognuna di queste conoscenze ci offre una particolare visione dell'universo. Per esempio la visione scientifica e empirica del mondo è basata sui dati che ci vengono offerti dalle scienze empiriche. Una visione filosofica del mondo si ottiene per mezzo di argomentazioni di tipo mentale e filosofico. Una visione religiosa del mondo è il risultato degli insegnamenti delle guide religiose. E invece una visione irfanica o gnostica o mistica del mondo avviene per mezzo delle percezioni presenziali di tipo appunto gnostico o mistico. E a questo punto quindi ci chiediamo quale tipo di conoscenza ci permette di risolvere quelle tre questioni principali di cui abbiamo parlato e che la teologia islamica, il kalam, afferma essere i principi della religione. Quindi vediamo ognuna di queste conoscenze se possono appunto permetterci di risolvere queste questioni religiose. La conoscenza di tipo empirico, perché abbiamo detto essere limitata al mondo tangibile e ai fenomeni di tipo naturale e fisico, non può esserci d'aiuto perché queste, come abbiamo detto, le tematiche di tipo religioso non sono materiali, non sono tangibili. Per esempio la conoscenza empirica non può negare o dimostrare l'esistenza di Dio, semplicemente perché non ha accesso alla conoscenza degli enti metafisici, non fa proprio parte della definizione di scienza empirica. Per cui la visione dell'universo che ci offre una conoscenza di tipo empirico non è completa e in realtà il massimo che si può affermare è che questa scienza può occuparsi dell'universo materiale. Però in realtà anche qua ha i suoi limiti, perché comunque sappiamo bene che da un punto di vista religioso il mondo materiale è collegato al mondo metafisico. La conoscenza che si ottiene attraverso gli insegnamenti delle guide religiose ha valore subordinato. In che senso? Nel senso che è necessario prima di tutto dimostrare la veridicità e l'affidabilità delle fonti e degli insegnamenti. Cioè io non posso dire che per esempio Dio esiste perché lo dice il Corano. Prima devo dimostrare che il Corano è una fonte affidabile. Quindi è necessario prima di tutto dimostrare per esempio che un profeta è veramente tale per potersi fidare dei suoi insegnamenti. E prima ancora bisogna dimostrare l'esistenza di un Dio che affida la missione di guida a questo profeta. È chiaro che il fatto che un individuo è un profeta o che Dio esiste non può essere dimostrato attraverso gli insegnamenti religiosi come abbiamo detto. Cioè non sarebbe accettabile affermare Dio esiste perché lo dice il Corano o Muhammad è un profeta perché lo dice il Corano. Questo in principio non può essere una dimostrazione accettabile. Ecco dopo aver dimostrato l'esistenza di Dio, dopo aver dimostrato la necessità di un messaggero, dopo aver dimostrato che Muhammad è un profeta e così via, anche gli altri insegnamenti potranno poi essere accettati e considerati validi. Per cui anche la conoscenza che deriva dagli insegnamenti religiosi non ci aiuta in un approccio iniziale a risolvere le tre questioni principali che stiamo affrontando. Anche per esempio il credo nell'aldilà. Il credo nell'aldilà noi non possiamo dire che dobbiamo credere nell'aldilà perché lo dice il Corano. Prima dobbiamo dimostrare l'esistenza di Dio, l'esistenza, il fatto che Dio abbia mandato dei profeti, il fatto che Muhammad sia stato un profeta, che gli sia stato rivelato il Corano, eccetera, eccetera. E per quanto riguarda la conoscenza di tipo gnostico, irfanico abbiamo detto e presenziale, anche qua è necessario fare alcune considerazioni. La prima è che la visione dell'universo è comunque fatta di concetti, mentre noi abbiamo detto che la conoscenza di tipo presenziale non è fatta di concetti, ma è una conoscenza diretta delle cose. E riportare ciò che si conosce attraverso la testimonianza di tipo presenziale sotto forma di concetti necessita di una particolare abilità che se la persona che ha avuto questa esperienza gnostica non possiede comporta il rischio di comunicare messaggi sbagliati o messaggi che potrebbero essere fraintesi. Per cui, per esempio, noi non possiamo affermare che Dio esiste perché il tal santo ha avuto una visione mistica. Perché questa visione ovviamente deve essere poi interpretata, deve essere portata sotto forma di concetti e non tutti sono in grado di farlo, anzi molto spesso vengono fraintesi. E l'interpretazione quindi delle percezioni di tipo presenziale è a volte quindi difficile e confusa per l'individuo stesso, quindi ancora più complessa da spiegare e far comprendere a un osservatore esterno. Quindi una conoscenza di tipo presenziale delle cose, degli enti, di Dio, tutto insomma quello che ci circonda, è possibile solo per colui che sta già affrontando un sentiero di tipo spirituale e quindi ha già delle risposte per le tre questioni di cui stiamo trattando. Al massimo queste esperienze mistiche possono essere una conferma di quello che già si sa. Quindi in conclusione possiamo riassumere in questo modo che per poter dare delle risposte alle tre questioni principali che abbiamo citato, ossia conoscere la nostra origine, il creatore, conoscere il credo nell'aldilà, quindi sapere qual è la nostra meta e qual è la prassi e la linea di condotta che dobbiamo tenere per poter raggiungere questa meta, quindi conoscere quella che è la guida divina e come Dio ha guidato gli esseri umani nell'arco della storia. Prima di tutto dobbiamo fare riferimento a una conoscenza di tipo mentale e alla visione filosofica dell'universo, quindi come ho detto partire da argomentazioni di tipo razionale. Ecco, questo non significa che dobbiamo dare una risposta a tutte le questioni che compongono la nostra visione dell'universo in modo filosofico, ma semplicemente che prima di tutto è necessario dimostrare in modo razionale temi importanti come l'esistenza di Dio, la necessità che Dio invii delle guide, dei messaggeri, degli inviati e così via. E questo però non esclude che, e questo sarà appunto l'approccio che avrò nello spiegare le questioni della teologia islamica, per cui vedremo per esempio nel dimostrare l'esistenza di Dio, partiremo da argomentazioni di tipo razionale. Però questo non esclude il fatto che per risolvere alcuni temi non si debba appunto fare riferimento ad altri tipi di conoscenze. Vedremo infatti che in alcune argomentazioni come premesse utilizzeremo conoscenze di tipo diretto e presenziale oppure conoscenze di tipo empirico. E una volta appunto dimostrati i temi principali, come abbiamo detto, l'esistenza di Dio, eccetera, potremo fare riferimento agli insegnamenti, per esempio del Corano, degli Hadis, eccetera. E questo cosa permetterà? Permetterà in seguito di, quando una persona acchiara quella che è la sua visione generale degli insegnamenti religiosi, questo gli permette di intraprendere un sentiero di tipo spirituale, di tipo gnostico, irfanico, che lo porta, porta quello che viene definito nell'irfan, nella gnosi islamica, porta il viaggiatore spirituale ad essere testimone in modo presenziale, quindi in modo diretto, di ciò che prima conosceva solo come concetti. Ovviamente è un processo che è riservato a pochi, nel senso che veramente pochi individui sono in grado di arrivare a una percezione, a una conoscenza tale di Dio che possa permettere di avere anche quella percezione diretta. Quindi nella teologia islamica noi diciamo che è importante avere una visione corretta dell'insieme di quelli che sono gli insegnamenti islamici, quindi mettere in pratica, ovviamente credere in ciò che verrà dimostrato, poi mettere in pratica quelli che sono gli insegnamenti religiosi e in questo modo pian piano si può acquisire una conoscenza di tipo presenziale, quindi avere anche un'esperienza di tipo diretto della divinità, però ovviamente è chiaro che è qualcosa di molto molto difficile e molto pochi riescono a raggiungere un livello tale di spiritualità. Certo. Bene, professoressa Tartian, io per oggi mi fermerei qui, ci ha dato anche un piccolo anticipo della prossima puntata che abbiamo capito che sarà molto interessante come questa, anche molto corposa. se vuole salutare gli amici del Toro. Sì, ringrazio tutti quelli che avranno seguito questa sessione e ovviamente il Decimo Toro. Allora, amici, io ricordo che la professoressa Anieta Archiana ha una playlist sul Decimo Toro Interviste che ci consentirà di settimana in settimana di conoscere meglio la realtà islamica. Lo ripeto, l'abbiamo già detto, noi non vogliamo fare, lo avrete capito anche da questi bellissimi insegnamenti che ci offre la professoressa, non vogliamo fare sincretismi, né gare, quelli si fanno allo stadio lì, a chi è più bravo, assolutamente no. Noi vogliamo semplicemente fare un discorso culturale, sperando di dare degli stimoli di riflessioni filosofici e spirituali nel rispetto delle diverse, e sottolineo, diverse tradizioni. Quindi, consueto saluto, un pollice su per il mio lavoro e sempre incollati al Decimo Toro. Un caro abbraccio a tutti, Marco Cosmo.